L'esperienza che vi voglio raccontare è quella della visita di uno dei luoghi simbolo della memoria che si celebra in questi giorni, il campo di concentramento di Auschwitz. Ebbi modo di visitarlo, alcuni anni or sono, quando con il Cardinal Bagnasco andavamo a visitare i luoghi di vita di Papa Wojtyla. E con l'occasione andavamo anche a vedere questo luogo che è uno dei più importanti siti turistici visitati in Polonia. Un museo nazionale, come è stato riconosciuto dal governo polacco nel 1947, è un luogo di interesse mondiale, perché venne iscritto nel patrimonio mondiale dell'UNESCO negli anni 80. Quindi si capisce qual è l'importanza di questo luogo, molto visitato ogni anno da centinaia di migliaia di visitatori. Oggi colpisce perché è un luogo, noi lo vedemmo a settembre, quindi nel pieno della natura, i colori della natura erano ancora molto accesi e ben lontani da quelli che si vedono nei filmati, dove la neve, il grigio, il fumo dei camini che indicavano i luoghi di cremazione, siamo abituati appunto a vedere. Il campo di concentramento di Auschwitz nasce nel 1941 all'interno di un luogo che era già costruito, perché erano le caserme che il governo polacco nel 1940 costruì per l'esercito polacco. Con l'invasione della Polonia i nazisti requisirono questo luogo e ne fecero uno dei primi luoghi di concentrazione dei prigionieri. Dapprima prigionieri politici, polacchi, ungheresi, di tutti gli stati che vennero occupati e successivamente anche di altre figure, gli zingari, gli omosessuali e in ultimo gli ebrei, gli ebrei che costruirono poi la parte più importante, più rilevante di questo luogo. Dopo questo primo luogo, Auschwitz I, venne costruito Auschwitz II, che è quello più ampio, Birkenau, lì dove ci sono le baracche di legno che ancora oggi in parte sono conservate. E poi un terzo sito Auschwitz III, Monowitz. Auschwitz è la traduzione tedesca di un luogo polacco, di un paese che si chiamava Auschwitz, oggi ricostruito perché venne demolito in occasione dell'ampliamento dei campi di concentramento di Birkenau e Monowitz. La visita che abbiamo compiuto e che più è stata significativa è quella di Auschwitz I, dove esistono questi stabili in muratura, in laterizio, destinati originariamente appunto come caserme per l'esercito polacco, quindi strutture che non hanno l'aria di essere delle prigioni, vennero trasformate in prigioni proprio dai nazisti, con una serie di modifiche interne, con l'aggiunta di altri luoghi come il forno crematori, le camera a gas, eccetera. Si entra in questo luogo attraverso quel portale che tutti conosciamo, con la scritta a caratteri maiuscoli in Arbeit Macht frei, il lavoro rende liberi. Le guide ti portano subito a vedere lì vicino uno dei luoghi simbolo, il luogo dove venivano fucilati i prigionieri, quelli che venivano presi dopo una fuga, quelli particolarmente pericolosi, eccetera, e quindi in quel luogo abbiamo fatto una prima sosta con preghiera da parte del cardinale Bagnasco. Poi si entrano a vedere i padiglioni dove si vedono come venivano sistemati i prigionieri in letti a castello a più piani, ma anche per terra, dove forse per il numero notevole di afflusso venivano sistemati per terra, senza letto, con semplici coperte, eccetera. Accanto a questi luoghi ci sono ad esempio le celle di detenzione per i prigionieri politici o quelli destinati ad essere eliminati. Quello che ha colpito ad esempio è la cella destinata a padre Massimiliano Colme, un frate francescano polacco che si offrì come scambio per salvare la vita ad un ebreo polacco che aveva famiglia. Questo prigioniero, padre Massimiliano Colme, venne fatto morire di inedia in una cella dove non aveva nulla praticamente, se non un luogo dove fare i propri bisogni personali. Le celle erano un metro per un metro, quindi non c'era neanche il posto per dormire distesi. Gli altri luoghi che colpiscono sono ad esempio poi i padiglioni destinati agli esperimenti medici. Sappiamo che i nazisti utilizzarono gli ebrei per fare degli esperimenti in campo medico e quindi questi luoghi erano particolarmente riservati e degni di un'attenzione, di vieti particolari. Ma quello che impressiona sono ad esempio i luoghi dove vennero raccolti gli effetti personali dei prigionieri, soprattutto degli ebrei. Una stanza dove ci sono 80.000 paia di scarpe accumulate. E' impressionante perché non c'è nessuna descrizione, perché il luogo si spiega da solo. Il luogo dove ci sono più 4.000 valigie di deportati ebrei con i nomi relativi alla data di nascita. 40 kg di occhiali, 460 protesi strappate ai prigionieri che vennero poi portati nelle camere a gas. 40 metri cubi di oggetti metallici, dai pentole, vasi da notte e oggetti per la cura e l'igiene personale. Due tonnellate di capelli che i nazisti tagliarono alle ebree, alle donne ebree. Quindi questa è veramente forse la cosa più impressionante che colpisce chi visita questo luogo. La visita poi alla parte finale in cui si visitano il forno crematorio e le camere a gas. Sono veramente quelle che colpiscono per la barbarie che è stata utilizzata in questo luogo da delle persone che dire che siano delle persone umane è troppo, perché dei mostri che hanno realizzato questo luogo dove sono stati uccisi un milione e centomila persone. Quindi il luogo principale di sterminio dei 6 milioni di ebrei che compongono il patrimonio globale dei morti nei campi di concentramento realizzati nell'Europa centrale. Grazie.